Infortunio shock per Gordon Iward L'ex giocatore dello Utah, Jess infatti pensate che ha riportato una frattura alla caviglia sinistra dopo un terribile scontro con Lebron James nel primo quarto Potrebbe essere durata solo 5 minuti e 15 secondi la stagione NBA di Iward proprio nei grandi campagni acquisti dei Boston Celtics Arrivato con un contratto da ben 128 milioni di dollari per ben 4 anni di tempo Nonostante l'infortunio però i Celtics hanno provato in tutti i modi e in tutte le mani rimontando anche uno svantaggio di 18 punti Presentandosi avanti nel punteggio negli ultimi 3 minuti di gara 3 minuti di gara vi ricordo che sono in totale 180 secondi di tempo A quel punto però è emersa maggiore esperienza di Cavs Soprattutto è salito in cattedra il buon Lebron James che ha trascinato in pieno successo i Cavs con ben 29 punti, 16 rimbasi e ben 9 assist complessivi Vi ringrazio per l'ascolto, ripeto questo infortunio a corso o meglio che si è verificato a questo grande giocatore di basket Gordon Iward Probabilmente potrebbe inclinare la sua carriera sportiva Speriamo che ciò non accada, spero proprio di non, anche perché è giovane e molto bravo Grazie, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e saluti a voi tutti e buona giornata